ciao a tutti e benvenuti su track channel avvio questo video in questo momento perché sono arrivati alle porte di troia incredibile troia sembra brutto quando lo pronuncio comunque sia i suoi eserciti di continuo stanno andando a saccheggiare i miei anche se ora mi sto difendendo benissimo due grossi con l'esercito da 12 unità quindi ho fatto il giro completo la mappa perché dopo ho finito la guerra contro i usate il termo squadra la pronuncia gli agriofoni finendo la guerra gli ho imposto di fare guerra anche loro a troia ho fatto tutto questo giro panoramico praticamente per scoprire un po queste coste e ad un certo punto arrivo qua e mi ritrovo a troia con le mura rotte nel frattempo che sono arrivato un po le hanno riaggiustate e ora mi accingo a distruggerla massacrata lo meno a conquistarla non mi fa costruire nulla evidentemente le mura sono rotte sinceramente non lo so comunque ha una resistenza di 23 turni vedete l'ora sono completamente rotte troia la caduta proprio di troia gli ha messo lo sgambetto bella questa panoramica praticamente questo dovrebbe essere la fine del gioco in teoria è enorme come città pazzesco a mura sul mura vediamo che le doppie mura non me le ricazzi triple mura quindi non ricordavo da parecchi total war questo è praticamente dovrebbe essere una passeggiata gli daiti arrivano i rinforzi sono giunti vediamo i rinforzi che arrivano a velocità un po si sente il profumo della vittoria una cosa abbastanza veloce non li facciamo camminare altrimenti si stampano subito a cavolo c'erano anche quelle lì ah va boh dai ah ho capito dai dobbiamo togliere e rifare da capo ok facciamo camminare altrimenti si stancano qui attendiamo ancora un po e godo come un matto non mi sarei aspettato di trovarla così sguarnita 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 e sguarnita no no Nonna sto derreno fa cagare Ma non c'è tanti uomini che proprio voglio fargli attacca Questo è il tuo obiettivo! Non mi guarda! Andiamo una volta di questi poveracci in diretta Dove non si stanno vivendo queste persone? 3 3 3 3 5 5 5 6 5 C'è il sangue di sangue! Passare al comando! Guarda i soldi! Guarda i soldi! Sono pronti per cercare! Guarda i soldi! Destroi i soldi! Raffaele! Siamo! Chi si può difendere? Chi si può difendere? Un'arrivo nel centro di droga, guadagnare il futuro partita. Il tuo eroe è sotto attacco! Brighton, Ares! For the Acheon! Recavac! 8-4! Let's see blood! Brighton! Guarda i soldi! Spears! Trained and ready! Attack! Attack! The men's spirit is broken! Affiliate! Affiliate! Right there! Spirits! Let's go now! Let's go! Run! Running now won't save you! We are a king! You unfortunate bastard! You unfortunate bastard! We are all violent! Drop bar! Let's go! Run! Are you sorry? What's gonna do you believe? We are a king! We are a king! E the man is king! Where are you? Dove l'ho lasciato sguarnito proprio questa? Come? Alessandro? Qui dovrei raderla solo in realtà ma non posso troppo bella da essere distante Altenuto, spada di troia E' ad Achille va scusami ma che parlo da loro I love a challenge Achilles, the champion Great Achilles Son of a goddess and a king Questa è quella che si è vero? Beh Ma che mongoloide Ribolle il sangue sto demente Dotazione perduta Beh, quant'è che cala sto cazzo di cosa? Motivazione bassa non c'è più da parecchio Scusami ma Ah, che cavolo Sono costretto Que bale Lui guadagna il morale Senza rinforza Non si può utilizzare questo Ciclo da guerra agli Achille Sono meglio questi Più carri allora qua Sono felicità Influenza Quella influenza c'è bisogno però Qui c'è meno l'efficienza Anestrativa a prolungare i diretti Reali, costi di costruzione Edifici principali In questa provincia Il 10% e meno Ecco perché Probabilmente Tanto vediamo il massimo Credo l'Achilles Ha qualcosa da dire Probabilmente avrò 8 turn Non potrò farlo 4 turn 3 turn Non lo so Non potrò fare Ha qualcosa da dire 8 turn ora io devo andare a conquistare subito colone credo non lo fa fare niente porca in seria facciamo vedere prima ok allora non posso fare nulla ok e niente dopo la caduta di troia vi saluto e al prossimo video con il track channel ciao a tutti